Giulio Cesare è stato una delle figure più importanti e controverse della storia romana. Nato nel cento anno corrente da una famiglia patrizia, Cesare fu un brillante politico, condottiero e scrittore. Fu il fondatore dell'impero romano e la sua figura ha continuato a affascinare e a ispirare per secoli. I primi anni, Cesare nacque a Roma, nella Suburra, un quartiere popolare. Suo padre, Gaio Giulio Cesare, era un pretore e sua madre, Aurelia Cotta, era una donna di nobile famiglia. Cesare ricevette un'ottima educazione e si distinse per le sue capacità oratorie e retoriche. La carriera politica. Cesare iniziò la sua carriera politica nel settanta anno corrente, quando fu eletto questore. In seguito fu eletto edile, pretore e consol. Nel cinquantanove anno corrente, Cesare formò con Crasso e Pompeo il primo Triunvirato, un'alleanza politica tra tre uomini potenti. Il Triunvirato riuscì a ricoprire tutte le cariche più importanti di Roma e a consolidare il proprio potere. Le guerre galliche. Nel cinquantotto anno corrente, Cesare fu nominato proconsole della Gallia. In questo ruolo, condosse una serie di campagne militari che portarono alla conquista della Gallia Cisalpina, della Gallia Transalpina e della Gallia Belgica. Le guerre galliche durarono otto anni e furono una delle imprese militari più grandi della storia. La guerra civile. Nel quarantanove anno corrente, Cesare attraversò il Rubicone, un fiume che segnava il confine tra la Gallia e l'Italia, dando inizio alla guerra civile. Cesare sconfisse le forze di Pompeo e dei suoi alleati e conquistò Roma. Nel quarantaquattro anno corrente, Cesare fu nominato dittatore perpetuo, un titolo che gli dava il potere assoluto. L'assassinio. Il quindici marzo del quarantaquattro anno corrente, Cesare fu assassinato da un gruppo di senatori guidati da Brutto e Cassio. L'assassinio di Cesare segnò la fine della Repubblica Romana e l'inizio dell'Impero. Eredità. Giulio Cesare è stato una figura controversa, ma la sua eredità è indubbia. Fu un grande condottiero e un brillante politico che lasciò un segno indelebile sulla storia di Roma. Cesare fu anche un grande scrittore e le sue opere, in particolare il De Bello Gallico e il De Bello Civili, sono ancora oggi considerate dei capolavori della letteratura latina. Alcuni dei suoi successi più importanti. Conquista della Gallia. Fondazione dell'Impero Romano. Riforma del calendario. Introduzione della cittadinanza romana ai provinciali sviluppo dell'economia e della cultura romana. La sua influenza. Cesare ha avuto una profonda influenza sulla storia e sulla cultura del mondo occidentale. È stato un modello per molti leader politici e militari e la sua figura è stata rappresentata in innumerevoli opere d'arte, letteratura e cinema. Conclusione. Giulio Cesare è stato una figura complessa e affascinante che ha lasciato un segno indelebile sulla storia. La sua vita e le sue opere continueranno ad essere studiate e ammirate per molti anni a venire.